A me piace questa sceneggiatura perché è tragicomica, io spero che ci sia questa tendenza al tragicomico, basta tenere quell'equilibrio sottile, delicato, e se riesci a restare in equilibrio allora tutto si sposa meravigliosamente, io non so se ho detto una cazzata o no, però io a questa cosa ci credo e questo film ha questo, al tragico e il comico, poi sto insieme agli amici, stai zitto un momento, perché sto parlando, proprio davanti questo, avete visto? Poi era un gallo, compriamo un cane ma era un gallo, e quindi poi è un'occasione per rivedere gli amici, insomma quando li vedi gli amici stai bene, ti diverti, c'è anche le belle ragazze qua dentro, sono proprio belle, e tutto ha più gioia, felicità, amore, via Matera, via Matera, via Matera, grazie Adolfo, mi raccomando, fateci qualche materiale che voglio chiedere questa parentesi, faccio vedere a me, venga qua, va bene? che lo aspetto io personalmente